Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo questa settimana si fanno tantissimi soldi in AFK con il nightclub vi spiegherò come fare soldi mentre praticamente non state giocando con il nightclub quindi mi raccomando guardate bene la guida come al solito prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale visto che molti di voi guardano i video senza essere iscritti ovviamente lasciate mi piace per fare miliardi su gt online seguendo le mie guide ovviamente il nightclub quando siete nel nightclub ragazzi la prima cosa da fare è andare per ovviamente sono step di preparazione non dovrete farli successivamente solamente per iniziare dovete ragazzi andare su gestione del nightclub e dovete fare promuovi il tuo nightclub quindi gestione nightclub promuovi il tuo nightclub questo qua lo fate solamente se avete la popolarità a zero perché insomma ci servirà per un passaggio successivo che poi vi farò vedere comunque fate la missione che insomma penso vi impiegherà neanche 10 minuti per farla sono veramente facili a me è capitata questa qui insomma completatela e questa settimana danno anche il bonus insomma sulle missioni quindi avrete praticamente mezzo nightclub pieno adesso dobbiamo raggiungere la massima popolarità del nightclub per farlo dovete utilizzare questo bug che il rockstar non ha mai risolto ma che è una cavolata quindi entrate all'interno del vostro nightclub ma prima di entrarci toglietevi da motorcycle club o da ceo e ragazzi abilitate la modalità passiva questo ragazzi vi permetterà di praticamente raggiungere la popolarità massima in pochi secondi quindi come vedete stando in modalità passiva quando entrate nel nightclub e avete un po' di popolarità praticamente vi arriveranno i messaggi di Marcel di buttare fuori gente e buttando fuori gente praticamente riempite la popolarità vi basterà buttare fuori una persona e avrete la popolarità al massimo è un bug ragazzi perché vi capita ogni volta e vi capita solamente stando in modalità passiva perché non stando in modalità passiva vi capiteranno altre missioni come accompagna il VIP da qualche parte e lì perdete tempo invece come vedete dal video stando in modalità passiva ho riempito la popolarità in praticamente un istante e come vedete me ne continuano ad arrivare quindi è proprio un vero e proprio bug che il rockstar insomma non ha mai risolto per qualche motivo come vedete stando in modalità passiva avrete praticamente sempre questa missione di buttare fuori gente stando nel nightclub vi continueranno ad arrivare ovviamente basta una volta ragazzi quando avete la popolarità al massimo finita e tra l'altro vi da 10.000 ogni volta quindi non è neanche malaccio comunque una volta che avete la popolarità al massimo cosa dovete fare? dovete fare un ulteriore step di preparazione se volete massimalizzare i vostri profitti con il nightclub quindi semplicemente andate al vostro pc del nightclub e controllate su gestione del magazzino centrale di aver messo insomma appunto i tizi qui a lavorare a queste cose sono in ordine di guadagno trasporto merci articoli caccia sud america ricerca farmaceutica stampe fotocopie sono le cose che vi fanno guadagnare di più ovviamente per determinate cose dovete avere i business motorcycle club allestiti comunque mettete ciò che potete perché questo qua ragazzi fa parte del guadagno passivo che farete con il nightclub senza praticamente giocare l'altra parte ragazzi sta appunto con la cassaforte del nightclub e adesso la andiamo a vedere quindi per praticamente fare soldi senza giocare dovete entrare all'interno dell'autoraduno una volta dentro dovete andare ragazzi sul test track così come sto facendo io questo vi serve perché il bug delle telecamere per rimanere in AFK non funziona più vi buttano fuori dal gioco invece con questo metodo nell'autoraduno funziona potete rimanere anche 24 ore 36 ore quanto vi pare a voi in AFK senza giocare quindi andate su un'auto a caso del test track e fate prova veicolo premendo triangolo e poi fate entra da solo e ragazzi questo qui è il nuovo bug sostanzialmente in più vi dà anche punti arena per insomma 8 ore che state all'interno dell'autoraduno quindi è un'ottima cosa quindi livellate anche il livello dell'autoraduno che non è male comunque una volta all'interno dell'autoraduno con il veicolo del test track dovrete semplicemente girarvi e andare verso il cancello quindi andate verso il cancello come sto facendo io e ragazzi rimanete fermi su questa schermata e facendo così il nightclub continuerà a produrre in maniera passiva sia nella cassaforte che per la parte illegale del nightclub e voi non verrete buttati fuori dal gioco ovviamente per non fare andare la console in modalità di riposo inclinate il joystick in modo che insomma l'analogico vi faccia così sulle due schermate così la console vede che state effettivamente giocando ma in realtà non state giocando perché sennò vi si spegne la console e va in modalità insomma di riposo comunque stando così ragazzi ci rimanete andate a scuola andate in palestra studiate eccetera eccetera e ogni tanto date un occhio magari uscire fuori dall'autoraduno chiamate Tony come sto facendo io così che potete vedere appunto la popolarità del nightclub a che livello sta come vedete io ce l'ho ancora al 100% e per chi se lo stesse chiedendo la popolarità massima quindi per arrivare da 100% a 0 del nightclub ci mette 5-6 ore reali quindi non di gioco e invece vi scende di una tacca praticamente ogni ora e mezza sostanzialmente quindi una volta che siete tornati da scuola, palestra, avete finito i compiti nuovamente uscite dall'autoraduno, entrate all'interno del nightclub come al solito vi togliete da motorcycle club se eravate motorcycle club o ceo e vi mettete anche la modalità passiva una volta dentro come vedete stando fuori un paio di ore mi è sceso anzi neanche un'ora e mezza comunque mi è sceso di praticamente una tacca e come vedete una volta entrato tra l'altro mi arriva subito la missione di Marcel perché sono in modalità passiva di buttare fuori appunto il tizio qui che dava fastidio e abbiamo nuovamente la popolarità al massimo senza dover rifare le missioni iniziali della popolarità che sono uno sbatti la popolarità serve perché appunto vi permette di guadagnare più soldi quindi andiamo all'interno del nostro ufficio prima cosa da fare ritiriamo i soldi della cassaforte come vedete è piena questa cosa ragazzi la dovete fare ogni due orette perché se no non vi guadagna più la cassaforte perché si riempie come vedete il limite massimo sono 250.000 vi fa 50.000 ogni 48 minuti quindi ragazzi più o meno ogni due ore dovete insomma accendere la play andare sulla play e comunque controllare se volete fare il massimo profitto ovviamente se state a scuola ci state per 6 ore guadagnate quello che guadagnate sono 250.000 easy ma invece appunto il business passivo illegale del nightclub vi continuerà a produrre perché lì diciamo che non c'è limite quindi anche in questo caso avete appena preso 250.000 dalla cassaforte non avete minimamente giocato potete andare su vendi prodotti e come vedete abbiamo più prodotti e non abbiamo fatto assolutamente nulla come vedete ragazzi ottimo metodo per guadagnare con il nightclub come al solito la popolarità non è un problema facendo quel bug che vi ho detto io continuate a guadagnare senza problemi ovviamente quando dovete fare le vendite probabilmente vi conviene farle in sessione ad inviti per evitare rotture di scatole quindi ragazzi fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo metodo nei commenti diciamo che è una cosa fantastica secondo me soprattutto se siete nuovi giocatori perché vi permette di fare milioni velocemente perché come avete visto non giocando ragazzi perché uno non è che può stare h24 sulla console non giocando siamo riusciti a fare parecchi soldi e questa settimana secondo me è il metodo migliore ovviamente lo potete utilizzare anche successivamente ma questa settimana vi conviene poiché c'è la velocità doppia sulla produzione del magazzino illegale quindi guadagnerete due volte più velocemente quindi vi consiglio di farlo soprattutto questa settimana vi ripeto lo mettete in AFK a voi che vi costa andate a scuola non lo so andate a fare sport giocate fate quello che vi pare e niente insomma potete finalmente guadagnare soldi su GTA Online fatemi sapere cosa ne pensate vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video